Iniziamo il consiglio, prego il segretario comunale di verificare il intero comunale Il consiglio, prego il segretario comunale di verificare il intero comunale Il consiglio, prego il segretario comunale di verificare il intero comunale Il consiglio, prego il segretario 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 comunale di verificare il segretario comunale Il consiglio, prego 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 il segretario comunale Prego il segretario comunale Il consiglio, 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 prego il segretario comunale è un interrogativo voglio porre all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale perché questo Consiglio Comunale è quello che si dice e si fa in questo Consiglio Comunale sta assumendo dei condotti quasi poco o nulla rilevanti perché dico questo perché se è vero come è vero che il Consiglio Comunale non solo i gruppi di opposizione alla fattispecie sottoscritto si lamentano si tendono giusta ragione per dei comportamenti scopretti da parte dell'amministrazione della maggioranza se questa situazione viene sottolineata al Presidente e mi riferisco all'accesso dei Consigli Comunali al Comune di Niamante se come ho detto il Presidente questa azione ai confronti di parere della Prefettura viene concursata anche da chi in quel momento rappresentava in Comune di Niamante cioè dal Vice Sindaco e poi alla al parere della Prefettura il parere della Prefettura viene considerata come in alta straccia c'è qualcosa che non vale nel senso che se tutti abbiamo chiesto il parere di un ente che è preposto a dare dei pareri anche di legittimità nei confronti di azioni amministrative poi ve lo facciamo fin da che tutto ciò non abbia nessun senso allora non capisco di che cosa parliamo dei consigli comunali perché se parliamo di attività che afferiscono e attengono alla vita amministrativa di questa comunità bisogna prendere atto di quando qualcuno che viene ripeto interrogato sulla questione da un giudizio che attenzione non vengono atto ci mancherebbe atto tant'è che ci siamo visti costretti a firma del sottoscritto di presentare ricorso a TAR su questa che consideriamo un abominio della democrazia nel nostro paese poi vengono tutta una serie di cose che evidentemente qualcuno si è attraverso conto o diciamo gli equilibri interni al comune molto precari che se ne dica e allora si fanno richieste di regolamenti richieste di quant'altro guarda caso dopo la notifica della del ricorso a BAPA io io ritengo in questo presidente lo dico al presidente in qualità di diciamo rappresentante del consiglio comunale il consiglio comunale deve riacquisire la priorità e la generalità nella nostra comunità altrimenti se viene declassificato a promere riunioni fra convolenti di questa città ritengo che si diminuisce si sfidisce quello che è il reale senso di questo consenso e devo dire che sono meravigliato anche se posso immaginare quello che è potuto succedere ma sono comunque meravigliato del fatto che un ufficio legale del comune è chi altro nel caso non mi ci piace dover tirare in valo la sedetaria che è diciamo responsabile anche delle attività di legittimità della che produce mente non abbia riportato il giusto altro secondo me ripeto della democrazia come ho detto anche se qualcuno l'ha dimenticato questo concetto di democrazia chi evidentemente sbagliando anche perché è sottoscritto affrontando una richiesta di annullamento in autotutela di un dispositivo che al nostro giudizio non ha nulla ripeto nulla che possa attenere alla democratica attività di amministrazione di una comunità ci saranno gli organi competenti che poi ci daranno atto se quello che stiamo dicendo è pura fantasia o se ha un fondamento di verità che ritengo debba essere conservato perché la democrazia partecipata non è quella a chiacchiere è quella che si fa realmente nell'ufficio che si fa realmente per strada che si fa realmente nell'assise del consiglio comunale io non mi sono preparato niente quindi diciamo intervento per sottolineare la prima questione la riforma le riforme che riguardano l'accesso non solo dei consiglieri comunali che sono i datori di unicidio ma dei cittadini generali con le amministrazioni trasparente danno la possibilità non solo dei consiglieri comunali ma anche io per di unicidio per unicidio per cui non c'è nessuna diminuizio in un qualsiasi inconvenimento che regola il rapporto tra i consiglieri comunali e gli uffici alla conoscenza degli altri perché un buon amministratore con un cittadino che è interessato alla vita amministrativa la può seguire la vita amministrativa quotidianamente sia sulla diciamo quasi sulla sicurezza del Comun Banque anzi adesso gli atti che vengono messi all'alto tra i toni per questo non ci può essere un atto che lede come dire la capacità di accesso alle produzioni amministrative sia dei consiglieri comunali che dei cittadini e questa è la prima questione che io voglio chiarire anche ai cittadini nessuno ha inteso voler nascondere quello che viene prodotto a livello di altri dai uffici il programma netto al nome non ha fatto il ufficio di quella nota che ha regolamentato l'accesso ai uffici comuni questa è la prima questione la seconda questione è che io credo che quella nota è una nota che va a cui l'ha dato seguito con un regolamento che è comunale credo l'accesso dei consiglieri comunali agli uffici ha inteso che gli uffici rendono complici gli atti che fanno e questo è fuori discussione altra cosa invece il rapporto tra i consiglieri comunali e anche i cittadini e gli uffici che vanno regolamentati e a mio avviso quel tipo di indicazione data dal vice sindaco in questa nota va ricevita nel rapporto l'avviso che faremo il prefettore non ha detto che è illegittimo normale in quel modo l'accesso dei consiglieri agli uffici il prefettore ha detto che deve essere contenuto nel contesto di un regolamento non è illegittimo il modo in cui un'amministrazione intende regolamentare il rapporto tra i consiglieri e gli uffici ma fa con un regolamento che noi faremo da bombare delle famiglie il vice sindaco aveva ritenuto di farlo con una benissima è nata una contestazione lo faremo così come prevede la legge con il regolamento ribadendo quello che il vice sindaco si aveva indicato con la nota che è stato oggetto di rilievo nostro alla prefettura e di rilievo sotto il sindaco ovviamente rappresentante di questa amministrazione cerca di mettere una toppa a quella che è un fratello e purtroppo con la toppa non si può chiudere una falla gigantesca voglio ricordare che da quello che ha sottolineato del sindaco significa che qualunque cittadino ha la stessa valenza e la stessa capacità di verificare gli atti di un consigliere comune e questo è vero da un certo punto di vista da un altro punto di vista vorrei ricordare che gli atti che vengono prodotti e che vengono poi pubblicati non vengono pubblicati al momento in cui vengono prodotti vengono pubblicati anche a distanza di settimane se non addirittura in alcuni casi a distanza di me non perché si voglia nascondere niente ma perché c'è un iter che deve seguire ma quello che il sindaco non ha detto che ha dimenticato è la differenziazione che è stata fatta tra consigliere con delega e consigliere senza delega per lo sindaco i consiglieri sono tutti consiglieri consigliere con la delega sa molto meglio di me che conosce molto meglio di me l'iter buro automatico delle funzioni la delega è una cosa che attribuisce il sindaco per occuparsi di una determinata questione o di una determinata attività ma nella sostanza dei fan non ha nessun valore di tipo giuridico per quanto riguarda lei perché un consigliere con delega che così come è stato prodotto l'atto può entrare negli uffici a differenza di quello senza delega non ha potere di firma su nessun atto che riferisce si riferisce all'attività di cui si sta occupando e questo il sindaco lo sa perfettamente per cui non è proprio la stessa cosa permette o non permettere l'accesso di un consigliere anziché un altro perché in questo caso si fa una discriminazione tra chi può entrare nell'ufficio come una cioè alcuni consiglieri rispetto a chi evidentemente dà fastidio non può entrare premesso che e si può verificare facilmente i consiglieri di opposizione come li vedete qua sono persone che vengono rarissimamente in comuni perché i documenti di cui abbiamo bisogno richiediamo per me anche perché abbiamo da lavorare abbiamo da fare una serie di cose che non si hanno qua quindi è inutile e inutilizzabile ritengo quel dispositivo non è vendita ma solo per chiarire i cittadini il consigliere con delega ha certamente una funzione in più di quello che è senza delega ed è ovvio che un consigliere con delega che quindi si occupa di un seguimento dell'amministrazione ha un rapporto con gli uffici competenti diverso da un consigliere senza delega è ovvio che non è una questione di dignità di di pari dignità di consigliere ma se un consigliere ha una delega è ovvio che ha una funzione io lo senza delega non ho ed è logico che un consigliere con delega ripeto che sia un un seguimento dell'amministrazione deve avere un rapporto quotidiano con gli uffici competenti rispetto alla delega che questo credo che sia chiaro quindi non è nel merito della questione del rapporto con gli uffici sarebbe il concluente il contratto scusami lo farò per dire che la prefettura sottolinea che non c'è nessun dispositivo che norma la differenziazione tra consigliere con delega e consigliere senza delega no giusto per un inciso mi rendo conto che gli argomenti della minoranza sono e l'opposizione della minoranza è legata solo a questo tipo di osservazioni ci sono tante cose su cui si potrebbe discutere e confrontarci ma non è stato bene di fare una discussione del principio che non ha nessun senso anche perché proviene da una richiesta stessa dei gruppi ci partano durante una riunione con i dirigenti i quali mi hanno chiesto di evitare la frequentazione dei gruppi invece in maniera costante andando a chiedere in continuazione documenti o eventualmente informazioni perché forse non lo sapete ma il comune di Diamante ha un immane lavoro da svolgere l'ufficio ha un immane lavoro da svolgere ci sono tanti progetti messi in campo tante volte non riescono nemmeno migliorati che hanno a disposizione il principio per portare avanti il loro corpo ma al di là di questo dicevo per il sindaco la prefettura intanto ha dato un parere intanto ha detto che si può inserire in questo quello che la disposizione che ho fatto nell'ambito di un rinnovamento e visto che da questo parere voi avete fatto ricorda perché io da questo parere non posso chiedere la convocazione della commissione per eventualmente inserire questo questo messo nell'ambito di un rivolgimento faccio una premessa lo voglio dire al consiglio comunale interno io ho detto anche che nell'eventualità a differenza non l'ho mai sentita questa proposta nell'eventualità l'amministrazione comunale dovesse uscire questa maggioranza dovesse uscire sul convente rispetto alla disposizione di un'eventualità le spese legale sono attribuite solo al sottoscritto dal mio convenzo amministrativo io non voglio lavare come ho fatto una vita con le casse una prima cosa poi se parliamo di democrazia questa maggioranza è talmente democratica che l'ha lasciato al suo posto il presidente del consiglio di democrazia non ne sa nemmeno non ne sa nemmeno un abrigo perché se parliamo di coerenza la coerenza di parlare male di un'amministrazione comunale ancora prima delle elezioni legate alle elezioni nazionali dopo aver impiegato il nostro signore un'amministrazione talmente democratica che non ha creato nessun problema quindi dal senso un'amministrazione naturalmente democratica e ha permesso al presidente del consiglio di partecipare al democrazio e al nome della maggioranza quindi le democrazia le storie non le prendiamo la nostra voglio solo precisare al vice sindaco evidentemente non conosce come funziona l'amministrativa tu non puoi pagare le spese se è comune se rende viene e sorcommente come sai benissimo molto probabilmente se non sicuramente tu non vorrai pagare nulla perché pagherai con l'uno e pagheranno i cittadini assolutamente lo dico io perché sennò pensi che stai amministrando la sua non è così e queste disposizioni queste disposizioni lo testimoni che sono atti di approvanza politica della serie qua comandiamo noi e decidiamo noi nella democrazia non funziona così questo si può fare in alcuni paesi che sono per fortuna molto come umani dalla nostra dalla nostra realtà e dove chiaramente c'è il capo dei capi e decide quello che devono fare i risultati ma non funziona così e andate a farlo tuttanto deciderà e la prefettura ha definito ma la cosa più clara è che l'hai chiesto tu insieme a noi hai chiesto il pannello della prefettura e su un pannello nel momento in cui ha detto non c'è nessuna normativa che dica che si possa fare questa cosa non solo non è a mettere il denuto a fondo quando è ribadita questa nota tra l'altro senza protocollo senza niente e poi volevo precisare un'altra cosa non siamo a New York gli uffici e i componenti degli uffici li conosciamo perfettamente e il fatto che loro non vogliono essere rotte le scatole perché devono lavorare durante il giorno non è perché parlo quindi della minoranza o dell'opposizione perché andate voi a rompere le scatole tutti i giorni e non li fate lavorare forse non vi è chiaro il progetto o non lo spiegato a me sì ci sono delle comunicazioni che vorrei fare come il regolamento di funzionamento del Consiglio prego certeremo chiederò stamattina una notte gli uffici si risponde a quello che lei ha detto si vede la prego di fare una notte gli uffici per chiedere se sono vere le affermazioni fatte del Consigliere Pasquale rispetto all'invadenza chiediamo all'intervento dei consiglieri di maggioranza per l'andare i consiglieri di opposizione se non è un'intervento non è un'intervento ma semplicemente utilizzo questo spazio come da segreta scusate come da regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per dare delle comunicazioni credo Presidente che nel rispetto della sua equidistanza dai gruppi consigliari il dipatto la replica e anche alcune affermazioni nella parte del Consiglio iniziale dedicato alle comunicazioni probabilmente non si possano consentire nel rispetto della democrazia di cui devono affluire tutti i consiglieri comunali e ne vogliono affluire anche io nessuno ha una dieta che ha voluto no 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 mi è stato dicendo che non si può consentire il dibattito replica con la replica addirittura non si può consentire nelle comunicazioni insieme ma perché non mi sembra attinente alle funzioni di questo spazio addirittura arrivare ad affermare che i consiglieri maggiorari fanno a robare le scatole negli uffici comunali mi sembra una cosa abbastanza grave lei l'ha consentita e prende il ruolo volevo soltanto utilizzare questo spazio per dare una comunicazione ai cittadini come abbiamo già annunciato sui canali social è stato approvato l'atto deliberativo di giunta per la istituzione di una comunità energetica rinnovabile sul territorio comunale di Diamante e volevo dare questa comunicazione l'atto che segue sarà un avviso pubblico divolto a utenze domestiche e attività commerciali per l'adesione allo studio di fattibilità a questo progetto di comunità energetica rinnovabile sul territorio comunale una comunità energetica rinnovabile è un processo di condivisione di energia in base all'adesione delle varie tipologie di utenze ci sarà poi la partecipazione a un vando e l'installazione se il vando come credo succederà andrà a po' fine l'installazione di moduli fotovoltaici su tutte le utenze e su gran parte delle utenze che avranno un materiale con possibilità per questo tipo di utenze di autoproduzione di energia e quindi riduzione della spesa sulla bolletta e possibilità di condividere energia in questa red mi fa piacere e anche questa è una comunicazione che si sia parlato di purtroppo mi ragione anch'io la solidarietà per le popolazioni colpite dagli ultimi eventi calamitosi atmosferici mi fa piacere invece ribadire che nel nostro comune sulla polizia del governo dei canali si è fatta credo una buona prevenzione e la gestione dell'emergenza di questi giorni credo che ne abbia dato ampia ampia dimostrazione parteciperemo parteciperemo ne abbiamo purtroppo conferma anche in questo consiglio comunale purtroppo gli eventi atmosferici causano problemi soprattutto di energia elettrica che l'ho notato negli ultimi giorni parteciperemo anche a un bando del MIT del ministero della tradizione ecologica per la produzione di tutti i quadri elettrici del territorio comunale per la protezione di tutti i quadri elettrici del territorio comunale agli eventi meteo atmosferici grazie 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 ho solo una mia considerazione su questo che quando si compulsa il presidente del consiglio il consiglio comunale il presidente del consiglio da seguito alla volontà del consiglio e così è stato fatto sul quesito posto alla prefettura è chiaro che come è stato detto il quesito della prefettura dà delle indicazioni dà dei correttivi che non sono non è un un parere di legittimità sardosante ha dato delle indicazioni era giusto quello che si faccia cioè fare un regolamento comunale è anche sulla possibilità di interroguire i consiglieri comunali e i consiglieri comunali possono accettare nella casa comune ogni ora ogni minuto di quando gli uffici comunali sono aperti questa è l'abc della nostra azienda questa è l'abc del testo unico questo è l'abc della nostra costituzione le intenzioni le espressioni tutti gli anni di moto che fanno riferimento che il vice signor ha fatto riferimento a noi è una storia ognuno di noi ognuno di noi il nostro consiglio comunale ha una storia che è legata alla sua identità e io la mia storia politica e amministrativa non lo spendo con nessuno questo sia chiaro e non deve neanche entrarci dentro questo consiglio comunale perché io me l'ho dichiarato sempre sin dal momento del mentiramento con il presidente del consiglio sarò leale al comune sono leale a questa comunità sono leale ai consiglieri comunali a tutti nessuna scusa né della minoranza né della maggioranza questo è quello che ve lo vuole ma se qualcuno indegna tirare per maggior che il presidente del consiglio è quello che abbia abbagliato indirizzo non è questa la sede politica dopo quando è dire adesso iniziamo il consiglio comunale prima volta e andiamo avanti perché abbiamo una serota che sono 15 punti allora progettiamo approvazione di verbali sottosegretrici reputti votazione favorevoli asseguti allora paurevoli si approvano si approvano il secondo punto di comunicazione probabilmente fondo di resente allora questa è solo una presa d'altro non si volta non si volta non ho parlato di coerenza non ho tirato la maggior presenza non so ma ho presentato appunto la sua maggiorno per come ha preso la norma ma se non si 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 a conoscere il consiglio comunale quale deliberazione di prelevamento non non sono stati adottati ma non ancora comunicati al compito comunale ma lo spangitifo parliamo della deliberazione della giunta comunale numero cento 8 con due sosporsi prelevamento secondo di sirena destinata a progettazione al sindaco su dire a costruirsi fatto giurirà nel procedimento canale pendente presso il tribunale riparo nella deliberazione raggiunta numero 239 quando è stato risposto il prelevamento con quanto riserva l'euro torino progetti giornata del sindaco giustizio di gestione guardare a milla come dopo rischi e il mondo del risale rappresenta la natura di una mesura di disponibilità euro 12.833 per ottenere in un gioco e euro 27.500 per ottenere ci sono gli interventi? ci sono gli interventi? sono questi però se non possiamo interventi si sono presa la allora prendiamo della pubblicazione lo diremo dopo ok proposto punto numero 3 all'ordine del giorno che è la formazione modifica piano giornale formettura e servizio formazione a condizioni attraverso che quando la ripulazione del Consiglio Comunale come facendo è stato approvato documento unico di programmazione del periodo 2023-2025 quando è libera di giunta comunale numero 53 del 14-3 del 2022 numero 158 rilevato che al pubblico 21 programma dell'acquisizione e di prestazione al portale prevede che all'amministrazione di Gitafici adottare il programma ambientale dell'acquisizione di benze e finze del corso in un taglio stimato pari superiore o superiore per la maniera euro conviene al direggiornamento annuale rispetto ai documenti programmatori in concorrenza con il bilancio dell'ordine e regge la programmazione economica e finanziaria visto che il senso del Comba Osto l'articolo di Ministro dell'Incrastruttura e del Trasporto in concetto con il Ministro dell'Incrastruttura e delle Finanze ha adottato il decreto del 16 gennaio del 2018 legato che gli schemi e gli eventi come sopravvertata e legata alle rispettive delinei sono state pubblicate davanti o fattore ovviamente per più maggiori visto i pareri ma vorrei restare sulla proposta di deliberazione dalle rispondate del servizio competenti non le regolarità tecniche e condabile di approvare il programma di annale di defizio del Corso 2020 e 2022 e di dare atto il presente atto tra l'allegato dei documenti con il capo di valente che costruirà parte di grande e sostanziale che disporre la pubblicazione della presenza delle operazioni con l'alto comprettore online per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del Comune di dichiarare la presenza delle operazioni non stanno con i giorni del provvedere immediatamente eseguiti ai sensi dell'arte il progetto 34 con la presenza ci sono in breve posso capire che quello che è questo punto numero 3 e il punto numero 4 che in effetti sono strettamente polegati o comunque hanno dei punti in Comune preannuncio il voto contrario sia a questo che a quello di dopo perché seppur questo può rappresentare nei due punti il titolo dei sogni di un Comune considerando una serie di situazioni legate sia alla condizione economica parte eccezione per quelle opere per quelle posizioni finanziate da enti sovracomunali ma anche in considerazione della priorità che si è dato ad alcune attività e alcune opere rispetto all'altro non siamo d'accordo a questa posizione d'accordo sulla programmazione ci sono altri interventi possiamo concedere le votazioni allora favorevoli contrari immediatamente seguitività favorevoli contrari quarto punto dell'ordine del giorno approvazione modifiche annuale programma pianale opere interazione di sindaco adesso vengono dell'interazione del Consiglio Comunale numero 192 è stata approvata il Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio con dell'interazione del Consiglio Comunale numero 165 47 2002 è stata approvata il bilancio di previsione al Consiglio di davanti per essere 5 di benzi come si condito 2024 elevato per gli schemi che leghi come sopra adottata legata all'ispettiva della vita che sono stati pubblicati all'albo predole o venendo per 30 giorni preso atto per il periodo di caldo non risulti perché non è un parco osservazione di me promuono che approvata lo schema di programma triennale del lavoro pubblico numero 22 e numero 15 fatto per attivo l'erno annuale numero alla realizzazione del programma elenco delle opere pubbliche compiute elenco degli mostri disponibili elenco degli interventi del programma elenco gli interventi compresi nell'elenco annuale elenco dei lavori presenti nell'elenco annuale del precedente programma che non riproposte e non abbiamo di dare atto del presente atto però legato ai dati con dati di l'anente di pubblico subito a parte intera di spettanziare di dichiarare la presente delle persone stando l'uggente di provera indedattamente sentito esente dell'articolo 134 con sono interventi ma però voglio fare delle considerazioni per questo punto perché volevo richiamare al programma di esempio ma ho visto che sono state prelevate somme per e questo devo ringraziare il consigliere per l'ora che ha fatto un buon lavoro ha messo in line i comuni di altri comuni su questi progetti che sono utili alla collettività che si richiamano poi ai percettori del medito di città e ho visto nella verità che ci sono i vari ambiti sociali e in questo caso è anche l'ambito ambientale e siccome sono quasi in ultimazione per la mitigazione del rischio irradio si è parlato giustamente delle missioneristiche per quanto avviene i lavori del fiume corpino e la voce che vanno all'ingresso del parco la valla credo che noi possiamo sfruttare questa proposta che faccio al consigliere per noi che è sempre ma anche alle assessori di utilizzare nell'ambito ambientale che poi richiamo queste voci sul pubblico due unità lavorative visto che devono essere coperte otto ore alle settimane in questo progetto io credo che due unità lavorative possono andare a pulire questa mansione perché in pratica parlando anche con l'ingegnere Maradei l'opera che si sta realizzando poi deve essere tutta quando è coperta da questa copiosa vegetazione e quindi credo che due unità lavorative di questi progetti possano essere dire che di calcolare poi in vento che crescerà con frato con gli arbusti eccetera eccetera se volete assessore con il costo gli anni potete magari sviluppare questo argomento la seconda è questo mi rende questa delivra che siamo dotati e per quanto riguarda i finanziamenti che sono stati percebuiti per quanto riguarda la progettualità sui testi cicatri devo ringraziare l'assessore Suleano e l'ingegnere Maradè perché ha dato voce anche un mio pensiero che da quello effettivamente di vedere che capo sindaco non c'era un progetto negli anni che abbiamo mandato sulle piste cicatri le piste cicatri oggi ci sono mostrando il punto l'alternativo anche mazzaro cattoluccio sul discorso della bandiera blu noi l'abbiamo inserita nel nostro programma oggi finalmente potremo diamante di questa progettualità che è importante e che credo visto che volerò una piste ciclata un progetto che dobbiamo parlare con i due artisti che in generale fanno una piste ciclata potrebbe essere fatta tra chiamando il Cirena al mondo della spiaggia e quindi a valle dell'elevato stradale dell'ex S di Giorgio da farla passare addirittura in mezzo ai io credo che ci deve essere la volontà politica che oggi amministra perché abbiamo visto che abbiamo dato impulso con la nostra volontà politica a delle infrastrutture turistiche attività invariante ci è quello che anche su questa strada che è importante per i fini futuri di questa città fare un servizio all'attualità un servizio primario che può essere sfruttato deve essere sfruttato in solo l'attualità di un ambito turistico credo che ci deve essere la possibilità di parlare dialogare con i progettisti per cercare fare la mia destra per il momento abbiamo avremo dei progetti che come i NRR sono mobilità sostenibile sono sicuro che arrivano subito altrimenti un'ultima cosa io avevo fatto una proposta all'inizio di no non so ne avevo fatto una proposta all'inizio ottobre di 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 realizzare in collaborazione con il servizio da neve dico un deposito comunale per quanto riguarda il settore il di 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 sostenibile le varie segnalazioni dell'attore soprattutto le servizio non è che vaga questa amministrazione la condotta il che è una condotta del discale e quindi ogni anno probabilmente le confezze si vanno a verificare delle segnalazioni dell'ostore e qui dobbiamo sempre intervenire e troppo spesse volte l'acquisto di questi materiali dell'attivazione delle conveni eccetera eccetera vengono effettuati magari in un costo che si triplica rispetto a un l'alegrazione un deposito non che poi ci potrebbe danno magari come la avevo suggerito con dei dei bandi di gara no per migliori prezzi se si fanno magari da oggi magari l'acquisto di questo materiale si paga uno se invece non posso l'opera si deve fare un acquisto per sanare la risposta e in estate si paga cinque io l'attente accaduto questa proposta l'analizzo per far spargare grazie 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 procediamo con la notazione va bene lo piano c'è il signore non 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 no volevo semplicemente dire che sul piano delle opere pubbliche se tutte le opere pubbliche finanziate e le progettazioni che abbiamo avuto finanziate noi abbiamo una conferenza stanno per comunicare ai cittadini abbiamo fatto in questi anni volevo semplicemente aggiungere che lo faremo nei dettagli e spiegheremo quello che avverrà nei prossimi anni grazie grazie sarò bisogno di tempo procediamo giusto un'informazione per una inesattezza della sua comunicazione se posso dare una notizia c'è mi hai spero sempre il miglior di morire contro me no giusto solo per rassicurarla presidente per non sovraccorrere le cose l'appunto di l'appunto del primo lotto della messa in sicurezza idraulica del Corvino oltre alla realizzazione del lavoro per tre anni prevede la manutenzione delle aree verdi grazie l'altro bene lei ha fatto una proposta che si sovrattone con una cosa che come diceva l'assessore ai lavori pubblici è stata già fatta quando riguarda la rete idrica diamo un'altra comunicazione alla popolazione il nostro ente in materia di fondi comunitari ha partecipato come tanti altri comuni al CIS acqua bene comune presentato una richiesta di finanziamento di ben 16 milioni di euro che attiene dal ripristino di tutta la rete idrica a questo ragione lei vedusta e addirittura progetto molto ambizioso la dismissione del depuratore soldi si trova in una posizione probabilmente infelice ma anche lì da 50 anni ciò ritroviamo lì e speriamo prima o poi di risolvere questo problema per quanto riguarda i progetti PUC diamo anche questa comunicazione alla popolazione si tratta di progetti utili alla collettività speriamo dottoressa Trombia speriamo di avere già i primi lavoratori questa settimana primi lavoratori dei progetti PUC addirittura si dà facoltà ai comuni di aumentare il numero di ore lavorative a 16 ore settimanali chiaramente non si tratta in quel caso di una questione di proposte ma di progetti già presentati che afferendo a vari settori mettono al lavoro i percentori di reddito di cittadinanza per quanto riguarda l'audio del confine stia tranquillo oltre alla realizzazione ci sono tre anni di manutenzione delle aeree e delle aeree compresse nell'appalto di servizio giusto per rassicurare l'era e rassicurare la popolazione in piena democrazia come dicevano che ci si tratta grazie avremo personali sempre su questi punti poi aspetteremo in base aziendale che cosa vera intervisto si andiamo avanti lo abbiamo contato quindi vogliamo volerlo contrari immediate segurità volerlo e contrari punto numero 5 all'ordine del giorno del consiglio trasferimento bene immobili da parte dell'agenzia del demani senza l'articolo 56 decretto legislativo numero 16 numero 69 con modificazione con legge numero 13 numero 98 foglie 14 partagelle 46 44 293 296 46 47 47 771 autorizzazione all'anno prego il decreto legislativo del 28 maggio numero 10 numero 85 è carico la conclusione comune per la soluzione città metropolitana e regione con proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 49 numero 9 in un'ira individuo all'articolo 5 con i beni e magari di cui funziona un articolo numeroso esempio dell'articolo 3 della medesima legge comune provincia città metropolitana e regione al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione istituzionale considerata per esempio la tempistica dettata dalla nuova e statunesse disposizione degli enti pericolari dall'agenzia di mani un elenco non tassativo non esaustivo del mobri di potenzialmente usce di trasferimento ferma la possibilità di scolere anche in stanza della riva il mobri come dell'agenzia di mani di mani con il quale si è costasalita a colore di mani a titolo come un erode terreno patrimonio disponibile di dare atto nel valore dei pelli di chiusura da allenare ma l'abbia terminato l'allatto delle regatture delle tribunazioni accontrate con atto pubblico da parte dei rispondanti del settore patrimonio ci sono interventi solo per dire che la valutazione che abbiamo fatto di questo punto mi sembra di capire che andiamo a sanare una problematica che c'è da un po' di tempo e nel senso che non c'è un'entrata per il comune di diamante quindi come tale non sono sempre d'accordo che il comune di diamante riceva quella dell'entrata di qualsiasi natura grande quelle che le gali ovviamente e pertanto non c'è il voto favorevole di questa di questa domanda iniziamo l'assessore di costruzione iniziamo con i che ho lavorato con la statura sulla storia la votazione lavorevole comuneità indegnata con seguità unanimità sesto punto l'organizzazione dei debiti fuori in grado derivanti dalla sencenza del l'articolo 194 del testo unico l'ordinamento dei vendi locali a 9 al primo comune tra i debiti derivanti da sentenza esempotitoli tra i debiti del vendi locale devono essere assoggettati alla procedura del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale i debiti appartenenti a questa categoria sono già diversi legittimi perché derivano da comprensimenti per l'autorità giudiziaria ma necessita comunque la conzione della procedura del riconoscimento perché sono debiti estranei alla volontà dell'ente e si perfezionano al di fuori delle procedure di spese la funzione della delibera e discussione pertanto si pone come atto dovuto rispetto a provvedimenti diversi dalle autorità giudiziarie affine di allineare gli atti del bilancio a tali detti che non possono essere previsti nel bilancio stesso prima di riconoscere anche secondo la corte dei conti il condito comunale non possiede margine di valutazioni sulla legittimità dei debiti fuori bilancio ma semplicemente prende alto il mantenimento del equilibrio di bilancio prego questo punto non non vi lo contrario della sostituzione è vero che si tratta di sostanze di bilancio necessario passaggio al borgerio comunale si tratta di detti strani alla luce però bisogna sostiturare in questo caso che l'aumento dei debiti di bilancio rispetto all'anno precedente nonostante tutte le raccomandazioni fatte dal revisore nelle varie relazioni che accompagnavano un bilancio dove si diceva di tenere sotto controllo intercontenzioso proprio per evitare l'inserimento e la necessità di approfondire questi debiti di bilancio rispetto all'anno scorso sono limitati perché la maggior parte dei debiti fuori bilancio riguardano sentenze del 2013 che non sono da lavorare a questa amministrazione se poi che con grande spirito di democrazia come diceva Boricatrus la presa in cos'è e la trasferita per poter risolvere il problema quindi sono termini che vedevano a maggior parte e quelli più moltanti vedevano la sentenza del 2013 il 2014 e il 2013 ok ricordate al vice sindaco che qualunque l'amministrazione arrivi si fa carico ovviamente di una condizione anche di questo tipo così come è capitata la precedenza quella ancora non dovresti votare contrari non contrari contrarissimo perché non sei stato in grado in considerazione di quello che era stato fatto in precedenza di portare avanti un lavoro che riguarda una serie di cose compreso l'ufficio legale che voi avete smandellato se vogliamo essere proprio precisi e che avrebbe potuto portare delle considerazioni molto diverse da quelle che sono in questo momento ma poi andremo in un campo un articolo diverso perché dovremmo fare riferimento a persone e a persone e a situazioni che in questo momento e in questo così non hanno diciamo di che dire è utile che cerchiamo di buttare sempre la cosa il sacco sulle spalle degli altri guarda io a questo punto l'ufficio sarà aperto per voi anche sabato domenica non capisco avete non mi spiegate sarebbe più un uomo di dire che non mi spiegate perché dica mille se la vogliamo dire capite praticamente è tutto ma se ne lo sei giustivo non se lo vuole siamo intervenuti non mi deve parlare a cosa anche lei non lo so no no anche lei la giustifica la giustifica la giustifica la giustifica la giustifica intanto voglio dire che non abbiamo smanellato nessun ufficio legale e vatti a leggere quando ha risparmato il comune istituendo un ufficio legale vatti a leggere quando ha risparmato il comune rispetto al passato perché secondo me non sapete nemmeno leggere le carte secondo me non sapete nemmeno leggere le carte ma forse ricapitoliamo se noi cittadini non capiscono niente i debiti fuori bilan dei linei e dei massi riguardano le saldenze per i contenziosi attraverso gli enti locali e gli enti in generale e le relative al percento che fino a un certo punto della storia della regolamentazione non erano nemmeno i sacri per cui una parcella poter rievitare da un certo punto in avanti e intervento normativamente con le regge dello Stato più obbligo invece in qualche modo equilibrare una parcella e anche fotografare al momento dell'evento questo da un certo punto che cosa sono questi debiti sono sendenze che danno tocco al comune in condizioni che non era preventivamente possibile immaginare dal punto di vista economico e che non possono essere previste e che quindi al momento dell'esecutività della sendenza che in linea di massima viene dopo il primo grado del giudizio anche se ne entro opposizione perché c'è una sostanzione lo dico me stesso oppure c'è un atteggiamento che non mette in esecuzione da parte alla parte che è quindi sono queste più le parcelle che li evitano e quindi perché ci troviamo sotto una disciplina che è normale affatto scherzi in maniera questi sono i debiti che costituiscono secondo le note dell'ANCI nazionale la spesa più importante di tutti i comuni italiani e che dovrebbero essere a mio avviso nelle leggi di bilancio e speriamo che quest'anno con l'eventamento arrivare ci sia in un qualche modo compensato perché sono l'imprevisto degli erano questa è la questione fondamentale c'è poco da quella polemica politica l'ha fatto l'amministrazione del 2020 del 2015 del 2013 è uno sport inutile perché il punto fondamentale è la è la questione da che cosa provengono dei tempi fuori bilancio che ricordo a me stesso al momento sono l'imprevisto più deleterio che accade negli anni di notte è una cosa che a mio avviso in qualche modo deve trovare una compensazione perché poi hanno lo svolto nei dibuti cioè noi per esempio abbiamo dovuto fare una transazione per una condizione sull'alto che io non puoi sentire per la per una questione che proviene che proviene dal 2006 2004 che gli uffici hanno anche in qualche modo trattato bene perché sono riusciti ad ottenere una riduzione della condanna del sentimento ma era in brevisto e avvenerà il bilancio del nostro comune dell'ulteriore 300 mila ecco questi sono i debiti fuori bilancio purtroppo è una materia sulla quale tutte le forze politiche delle destra e di sinistra dovrebbero fare una valutazione perché da qui a qualche anno molti comuni saranno inginocchiati non tanto dalla manganza della distruzione dei tribuni che pure quella è l'altro buco importante ma saranno inginocchiati dalla vicenda che proviene dai tempi di fuori bilancio perché il buco dei tribuni lo prevede tutto sommato delle macchie del bilancio lo prevede lo sa che c'è una c'è una incasso storico siamo al 40% nel sud e non di più ma nel sud siamo al 40% e lo prevede ma questo qui è imprevedibile è chiaro la posizione vota non vota una scelta strumentale politica con la sua parte ma queste sono però le idee grazie grazie a questo lavoro che è stato fatto cercando anche di tenere un po' sotto controllo tutto il contenzioso per quanto possibile monitorandolo almeno non potendolo prevedere nel suo esito finale noi riusciamo volta per volta ecco con dei grazie ragionieri l'avvocato Trombiero a tenere sotto controllo per quanto possibile la situazione e far sì che il nostro bilancio volta per volta riesca in qualche modo ad assorbire l'onda culto periodica dei debiti fuori bilancio per cui poi ovviamente ci può essere appunto l'imprevisto che esulante da un quadro di prudenza che noi comunque cerchiamo di porre in essere però ecco abbiamo proprio attenzione su questo ma questa ultima transazione purtroppo non ce l'ha è un bello di farne altre anche più piccole perché comunque abbiamo potuto fare questa è più grande questa è più grande poi andiamo al voto sì il capogruppo dell'opposizione mi è difficile ma come fa la persona che rispetta sempre la coscienza e quindi le idee di tutti mi risulterebbe difficile dire al sindaco che ha ragione ma devo comprimire sulla problematica che assolerà è una problematica reale che riguarda gli enti così come ha detto il Sida io stavo facendo un passaggio di natura politica quello che voglio sottolineare è che si è cercato di dare come è stato fatto di mettere il sacco pesante sulle spalle di altri la verità è che noi dovremmo invitare allora se fosse come dice tu dovremmo invitare tutti gli assessori alla condizioso e al bilancio degli ultimi duemila anni perché se è vero quello che ha detto è onesto è vero perché allora lo sbagliarono tutti la realtà dei fatti è che c'è la problematica allora se vogliamo affrontare la problematica noi facciamo l'opposizione e quindi ci sono delle situazioni che non condividiamo per questo votiamo contro non votiamo contro per quella sentenza piuttosto che per l'altra sentenza votiamo contro perché c'è un sistema che noi avremmo visto sviluppato diversamente e tu adesso ci vuoi dire che invece questa situazione dei nemici fuori bilancio riguardano la precedente amministrazione con chiara con chiara valutazione di tipo strumentale mi risulta difficile perché poi non la ripeto fra cinque anni visto che in questo momento sei tu l'assessore alla condizione sia il bilancio probabilmente fra due anni fra tre anni fra quattro anni se non per caso non lo so non ci fossi più tu direi la stessa cosa di te di quello di prima di quello di prima ancora perché il problema se esiste ed è reale è un problema di tipo strutturale quindi è nudo che andiamo a cercare il responsabile per cercare di dire no guardate che sono quelli di prima quelli di prima erano quelli di prima ancora quelli di prima ancora ogni cinque anni ci sarà un colpevole questa è la verità per quindi è nudo che facciamo questi giochetti che la gente capisce e sa tutto buonissimo non ho detto questo come il consigliere Marseli ha detto l'abbiamo raccomandato la maggior parte purtroppo non viene la sentenza quindi non è che precisano gli anni è precisato gli anni non è che siamo andati ieri ma posso dire buona che vengo dalla buona facciamo la sindaca non volevo io volevo chiarire e non ho detto che non siamo facendo un dibattito sulla verità non ho detto una patrota che bisogna evitare nessuno io ho detto semplicemente che c'è un problema che è prodotto dalla spesa dopo di che anche nel merito delle responsabilità siccome i denti di fuori bilancio vanno alla corte dei pochi dove c'è una responsabilità dell'amministrazione per una mancata costituzione perché una causa non è stata seguita perché c'è un errore nella nella trattazione un condensioso che si poteva evitare poi c'è la corte dei conti che interviene a fulle amministrazione per cui il giudizio sugli amministratori purtroppo da una corte dei conti che ha una prescrizione fondissima prima o poi ecco la necessità di farsi le assicurazioni che loro per esempio ci siamo accesi non appena ci siamo perché perché purtroppo è un'area raggiunta alla valutazione anche rispetto alle valutazioni spesso le condizioni delle vicende c'è che si parla per cui chiaro che gli errori possono essere commessi però quando a merito di ogni singola questione contenuta nella democulazione sappiano i cittadini che le responsabilità degli amministratori prima o poi vengono al peggine perché questi debiti vanno da corte dei conti come ci vanno in bilanio noi siamo un'amministrazione che ha fatto più transazioni ma per una scelta nostra noi se avevamo messo da parte tutti i soldi che abbiamo impiegato nella transazione potevamo fare il paese potevamo fare i per le transazioni allora favorevoli contrari immediata esecutività favorevoli contrari settimo punto all'ordine del giorno variazione di assestamento generale del bilancio e previsione per 2022 e 2020 fa prego l'ordine del giorno si vanno approvare la relazione assestamento generale di bilancio e con lo specifico si riportano le voci pubblicate dentro di fuori bilancio la sentenza finanziata 146.200 288 con un utilizzo fondo condenzioso la congiuntivo 2032 e per euro 188.000 026 con molti bilancio d'astorno fondi utilizzati fondi classificati potenziali bilancio 2.22 integrazione sonde per trattamento di flutti per euro 151.997 alla abbia marce integrazione previsione di entrata per le sanzioni cds che passano da euro 200.000 euro 350.000 di cui 80.000 dei maggiori 150.000 già diversalizzati e ho corso di diversalizzazione realizzazione del parco gioco di 51.000 maggiore di grande recensore area parco corpino 40.000 con un punto di investimento efficientemente energetico 70.000 contributi a suzorio PNFL 112.099 alienazioni patrimoniali in caso di cappella 389.119 esperimenti sovracomunali euro 85.763 contributi messi in piccurezza euro 499 ci sono interventi su questo prego anche su questo punto anticipo il nostro voto con il bravo e come ha illustrato il vicetino ci sono alcune importanti debati prima di fare tutto il bilancio e voglio solo precisare che un altro posto di demanda è quello dei progetti derivanti dalle sanzioni del codice della strada però se iniziamo i pochi di anche dei debiti del bilancio si vedono un sacco di sentenze che riguardano proprio il codice della strada quindi ha senso inserire tutti questi import come entrata queste 150 mila euro di entrate per le nonoste se poi soccondiamo perché fanno ricordo in questo caso stiamo parlando del tutor sulla superstrada che vengono impegnate e perdiamo tutte le case per accesso di velocità inoltre volevo chiedere un tagge per quanto riguarda l'imposto di 40 mila euro per la polizia finanziamento ottenuto per la polizia dell'area porto se è già stato spesso come è stato spesso tutto l'imposto delle 40 mila euro e poi come ha illustrato il vice sindaco in anche quest'anno abbiamo dovuto fare una variazione per quanto riguarda il costo di scarica purtroppo questa differenza ancora non è andata a regina per cui la situazione indifferenziata che ancora continua a pesare sul nostro bilancio il il costo che mi ha attesa per il nostro bilancio e invece per fare tutti riferimento al prelevamento dei fondi di selva vorremmo anche io fare un intervento per quanto riguarda i PUNC finalmente nel comune di Pianate si è archivato uno dei mostri purtroppo dei comuni di Mitrofi per quanto riguarda l'attivazione dei tirocini per i percepiti del intervento di Egipto di Lanza ma questo pensiamo l'impegno proprio per dare l'impegno a questi lavoratori polemiche che stanno succedendo negli ultimi anni che stanno in ultimi periodi che stanno sentendo sul reddito di cittadinanza si può far ricadere la corpa ormai su questi percepitori del reddito di cittadinanza che è qualcosa di veramente sbagliato perché loro hanno visto a prego di imprendersi la propria limitata ed è giusto che i per quanto riguarda i prelevamenti volevo chiedere per la giornata del sindaco visto che ci sono 500 euro di prelevamento di spesso e poi 1.500 euro per servizi e non ho capito bene quali servizi si intanto nella giornata organizzata con il sindaco e poi a proposito dei progetti del reddito di cittadinanza quindi che per la qualitazione di questa un'impegno opportunità lavorativa di questi soggetti volevo anche dire i progetti relativi al servizio civile dal 2018 che non si fa più in certo che non sono stati trovati come mai visto che è anche questa un'opportunità per i giovani per guardarli un approccio al mondo del lavoro e infine volevo risposta tra i interventi del conditato se quanto divergo per la vita comunale anche qui visto che gli uffici non mi hanno dato risposta esaustiva volevo capire se c'è un affidamento per la vita comunale da quando perché la mia memoria è rimasta in quel famoso progetto dei giovani in villa però dall'ora che penso avesse durata tre anni da allora non so come questo è successo nel periodo del conto quindi la vita è rimasta in zona che c'è stato un affidamento perché abbiamo avuto un'avventura della vita scolarmente che c'è un affidamento che c'è un affidamento gioco per permettere ai ragazzi subito dopo la pandemia di avere uno spazio a disposizione e poi ho visto che si apre periodicamente per la testa dei giovani di guerra e infatti volevo capire questo predovamento se c'è un affidamento come mai questo predovamento dal fondo di selva per i mesi di novembre e i mesi di dicembre ci sono i permetti ma io lo so per le testiche le entrate conce conce la strada sono superiori alle Oc c'era una c'era una segnaletta segnaletica obsoleta che è stata rimessa a posto perché non andava a dare rispetto a quello che avevamo messo a massicrano come quanto riguarda noi ci siamo anche l'ultra facciamo parte di un consorso di un ambito che è quello di farema quando ci hanno mandato da sistemi sociali che hanno fatto il colore da quel momento in poi siamo andati avanti e quindi ci siamo attivati non è di perso ma non è di perso ma non è di perso sulla commissione delle multe anche lì siamo in un ambito che è anche la normativa e soprattutto togliere la competenza del giudice di pace non me ne voglio di pace non sono uno che frequenta le aure mentre il tribunale mentre il giudice è evidente che se quella diciamo anche in maniera barbara viene data come detto pochissime possibilità di fare cassa poi è evidente che il comunus proprio perché diventa una 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 risorsa che non vuole poterà anche però i cittadini perché non superare i limiti di velocità significa neanche ridurre gli incidenzi stradali e su alcune strade ma se dobbiamo dire una verità i limiti delle velocità quando sono così cattivi riducono veramente gli incidenzi di stradali ma questo anche penso in un ambito che a mio avviso ha bisogno di una normativa più attenta e che dia indicazioni più precise anche alle pubbliche amministrazioni che internegono poi norme che all'arca non puoi propriamente restringono per cui spesso non sono la nostra ma tutte le amministrazioni si trovano di fronte alla impossibilità di come dire di mettere in atto i gatti amministrativi che poi possono tutelare i provvedimenti che sono insomma fatti per tutte queste per queste cose per cui è chiaro che spessissimo poi non c'è un rientamento di sentenze o dico e trovi degli uffici dei giudizi dei baci che annullano altri accolgono e altri annullano per cui anche questo è l'imprevisto come le sentenze siamo nello stesso ambito per cui tu devi fare una previsione del diranno che è necessaria fare sia nel pagamento che poi è strano molto spesso quando i comuni non sono soccontenti non riconoscono le spese a favore dei comuni e viceversa riconoscono a favore dei ricordanti e anche qui come si chiede interventi normativamente per dare un'indicazione un domando rispetto in senso il rito su queste questione quindi questo non vi si può dire rispetto a una questione l'altra questione riguardava il parco il parco perché è stato aperto secondo una delito fino a settembre dopo che è stato aperto nelle feste specifiche per alcune iniziative il trevalamento servirà per tenerla aperta fino alla fine dell'anno per cui faranno gli altri amministrativi che consentiranno di tenerla perché quindi l'aspiramento è terminato a settembre non glielo so dire in maniera specifica perché la sento in un terreno adesso è arresto comunque su questo non le so non le so rispondere so che noi abbiamo so che noi abbiamo probabilmente l'altro non è dipendente so che noi abbiamo disposto di fare un prelevamento per consentire di tenere aperto il parco che era con queste le cose al centro il servizio civile come mai non sono state provate di interruzione non sono state ah sulla questione del 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 reddito di cittadinanza io come più volte ho detto la penso in maniera diversa la penso anche la mia la forza politica la forza io credo che il reddito di cittadinanza sia stato salvito ho fatto il silber nel 2016 il 2013 credo che c'erano le condizioni economiche sociali che non ho ritrovato per il 2019 quindi il reddito di cittadinanza ha prodotto certamente un effetto positivo a mio avviso senza bisogno di fare queste questa produzione di atti amministrativi io quando sono diventato sindaco chiesto alla regione di staccarci dalla distrazione e di darci la possibilità di gestire tutta l'attività legata al quello fa l'autonomia perché capo il braio è un problema io non tutti poterà addirittura su questa questione i nostri uffici e i nostri amministratori hanno sollecitato l'ufficio del comune di Prana che è deputato all'occuparsi di questa questione quindi ho compreso io che ho chiamato personalmente più poco questa cosa per cui in Italia non siamo seguibili ai nostri uffici nella maniera che lo passò abbiamo stretti abbiamo telefonato i distretti non funzionano non ce l'abbiamo nella cultura dei distretti nelle nostre città non dobbiamo ci prendere i distretti purtroppo quando sono in un qualche modo gestiti da un comune da profilo si privilegia e si privilegia quello che ci ha solo e purtroppo le risposte si danno a piaglie politicamente più vicine a un comune e lui che ne pregge il cedito quindi questo è un'idea e secondo me sulla vicenda del reddito di cittadinanza il punto non è sopprinto il punto è trasformarlo oper e legis in lavoro il lavoro questa è la mia anche la mia opinione cioè è inutile fare il bando va a trovare una soluzione normativa che ti dà più legito di cittadinanza e a chi può lavorare lavorare ha delle attitudini ma lavorare lo obbliga a lavorare con il pubblico con l'azienda lo so poi il legislatore deve trovare la forma più adatta di risolvere queste questioni quindi credo che questo è il punto di fondo i ritardi che ci sono stati non sono certamente di più grandi e già nel 2019 avevo l'avvisato in una polemica pubblica fatta con la loro sindaco di Prato che di ammortizzare che ha fatto interrogazioni parlamentari su queste questioni purtroppo i distretti non sono i comuni dovrebbero avere una maggiore autonomia per vedere l'ha risolto un mese prima di noi ma anche per vedere la risolta di Italia noi lo risolviamo un mese dopo per vedere e l'abbiamo risolto certamente in realtà perché non abbiamo l'autonomia per poter fare gli altri che ci muovono per essere lavoratori direttamente da noi per essere il punto fondamentale ma non è o non per il paese come il gelassimo in alcuni comuni non so ma non è più ma non è che si sa che si dice il gelassimo è un'altra si prego ma non è non è tutto si abbiamo partecipato il saluto si abbiamo partecipato si vabbè cambiata la normativa come sapete perché prima partecipava direttamente l'ente invece adesso c'è un comune capofila che se ne occupa no è il comune di San Marco ha generato nel nostro caso quindi abbiamo per forza un po' a rendire con ma se era l'unico più vicino non funziona non c'erano altri quindi la scelta è stata diciamo quasi obbligata quindi abbiamo partecipato come in San Marco però al momento non abbiamo ancora notizie ci sono raccontando però abbiamo l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso non è stata uguale abbiamo aderito per non l'anno trovato e noi insegniamo delle unità proprio su Diamante non è stato proprio escluso proprio il comune di San Marco che era capofila e che conseguenza è il comune di Diamante avevo segnato l'impegno stesso per avere una professione ok così si ho tutto per dare questa informazione grazie grazie allora quell'impegno spesa è di 1500 euro è relativo al trasporto degli alunni che è integrato rispetto a quello che avviene la mattina al trasporto che loro visitano non vengono quella mia scuola e nell'eventualità ci fosse bisogno di intervenire diciamo in trans ma questo non avviene perché vengono ospitati nella scuola e non saranno spesso il 500 euro si è portato a questa legge grazie bene bene volevo solo sono spiegati un paio di passaggi il primo volevo confermare dalla segretaria se questa villa comunale è aperta dai dipendenti comunali non lo so non lo so non so gli esterni nessuno non lo so non lo so io disposizioni non non le ho date quindi posso parlare non sappiamo però facciamo un premio di 4 mila euro la seconda cosa questi 4 mila euro non sono stati affidati a nessuno sono stati prelevati però non li stiamo pagando a nessuno e né c'è l'impegno per darli a qualcuno adesso prelevamento è un'imputazione a bilancio cioè dal fondo viene imputata ci può fare poco impegno dopo ma non li abbiamo e la seconda cosa che vuole per la fine è i 40 mila euro per la pulizia nell'area del ponto o qui sono stati prelevati e diciamo quindi si sa e quindi significa che sono stati utilizzati i 40 mila euro per fare la pulizia al ponto è così? no consigliere Pasquale si è vera non sono lontano non lo vengo a portare è troppo nel presidente è che è un'ora il presidente mi fa alzare me lo devo andare a portare lei lo passa sono geloso sono geloso allora la prossima devo portare io di là dai ti ricordo questo ricambio giusto per precisare due o tre cose il consigliere Massiglia parlava di spese per il conferimento dei rifiuti non è la differenziata che non va a regime è il costo e il conferimento dei rifiuti in Calabria che gli eri cagli hanno in Anja siamo arrivati a 320 euro a tonnellate discariche rispetto di tanti annunci poi materialmente concretamente non se ne aprono le difficoltà sono tante devo dire che partecipando insieme al vice sindaco soprattutto a quelle riunioni del lato che adesso non c'è più c'è un altro tipo di autorità ci si rende conto in maniera palpabile e lampante di quale sia il problema il problema è il costo ricordo l'ultima riunione di luglio in Oltrato perché poi viviamo in una regione in cui alcune emergenze si affrontano il 15 di luglio per quello che si palesava per i dimori che si avevano ci è andata anche bene questa discorsa per riferendomi ai ai conferimenti ma il problema il problema il problema non è la differenza che non va al regime il problema è il costo del conferimento dei rifiuti di scarica Marcello chiedeva la questione dei 40.000 euro spessi sul porto che non sono serviti soltanto per la polizia ma che sono serviti anche per dotare l'area del porto che era lavoro di polizia e di messa in sicurezza per dotare l'area del porto per un nuovo cancello per sostituire 32 metri quadrati di recensione per pannellare l'area interessata nella condizione dei magazzini della presenza dei detriti ed anche per fare la pulizia non era soltanto meno lavoro di pulizia che comunque è stato fatto devo dire rispetto rispetto alla condizione pietosa in cui si trovava prima l'area dopo il lavoro di pulizia probabilmente anche l'impatto estetico è cambiato per quello che è possibile per quello che è possibile per quanto riguarda invece la questione della scusa mi Daniela perdono per quanto riguarda invece la questione della villa comunale la segretaria ha fatto bene per capire un concetto che avrei voluto esprimere e che voglio esprimere quando si compre l'avendo a fondo di riserva non significa che quei soldi siano stati già assegnati a qualcuno in questo caso a mio parere ed è una cosa che inviterei a fare in maniera unanica tutto il portico comunale in questo caso si prendevano a fondo di riserva 4.000 euro che era una questione prioritaria nella nostra città la quale di dare uno spazio ai bambini e io penso che ci siano due categorie di persone su cui dovremmo essere tutti quanti uniti nel dare degli spazi e delle aree che sono gli anziani e i bambini e nella nostra città gli anziani e i bambini devono avere degli spazi e credo che sia difficile discutere sugli spazi che si danno sia agli anziani che ai bambini anzi speriamo che questa villa comunale rimanga ancora aperta per sempre aperta e che i bambini e gli anziani abbiano degli spazi a disposizione sempre nella nostra città mi ha detto che Antonio però io non avrò faccio contestazione sull'utilizzo no era solo una delucidazione visto che l'edificio non mi ha risposto volevo capire se la villa comunale fosse affidata a qualcuno ma la villa comunale la villa comunale quando il piosco non è aperto e c'è ed è mantenuta perché mi sembra che il piosco sia mantenuto e per alcune ore della giornata c'è il cancello aperto si può fluire ma quando ci abito sopra mi fa piacere che sia aperta la villa comunale è la cosa più bella che possa succedere chiaramente prevedere la mia domanda era un'altra il problema è che il suo rifatto riguardava un'altra cosa prevedere prevedere una spesa per dotarla magari di altri servizi e di altri uomini è che si è appena 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 è finito l'affidamento a settembre quindi prevediamo questi soldi per fare manutenzione alla villa e finiva qui non c'è bisogno di fare la polemica no non è una polemica io diciamo soltanto che il nostro consiglio comunale deve essere unito e dare gli spazi a due categorie di persone ce ne spegniamo 10.000 a me fa piacere non mi fa dire un altro concetto e dare gli spazi a due categorie di persone bambini e ansi e su quella che siamo tutti d'accordo siamo malcolbissimi Francesco io volevo la vostra sulla villa comunale però in questo momento è abbandonata a se stessa che la aprite e la lasciate così è un pericolo per i bambini anche perché non tutti i bambini sono accompagnati per questo mi dico da parte allora questo ho dovuto farlo come genitore come mamma che voi me la aprite non c'è il chiosco va bene ma i ragazzi possono entrare in modo indiscriminato tenetevi a chiusa finché non siete sicuri di poter dare un servizio anche di sicurezza non facciamo come le grandi città in cui succede la tragedia e poi dopo piangiamo perché non è questo il modo di insuffrire di un servizio è importantissimo siamo per lo più genitori quindi i bambini vengono come gli anziani vengono sicuramente prima ma in questo momento la villa comunale non dà sicurezza io ho dovuto dire a mia figlia di non entrare devo andarci da sola perché buio al buio era tenuta non c'era un sistema fuori di illuminazione perdoniamo ma in questo momento ed è stata aperta per alcuni giorni perché i ragazzi sono entrati non penso che i nostri figli sono entrati ma per questo siamo facendo questo premio però chiudetela in questo momento per questo tenete la chiusa se vi chiedono la traduzione se vi chiedono sapremmo la traduzione ma qual è non capisco qual è il pericolo il pericolo è il pericolo i bambini piccoli sono accompagnati quando avrei i bambini di 12 mi saprei che il bambino non con il genitore sfortunatamente andare a seguire sempre il tutto ci sono guarda c'è stato un momento in cui mia figlia ha avuto problemi la verità è la fuori perché è uscita c'era buio non si vedeva niente qualche malintenzionato ci può essere sempre il problema ci può essere soprattutto ora che è le 5 e già a buio dal genitore che fa parte dell'indizio comunale chiederei una maggiore sicurezza solo questo perché per la villa siamo tutti d'accordissimo grazie procediamo con la votazione oggi abbiamo fatto un giro con consigliere dai quando c'è stato questo questo la mare faccio faccio una sintesi la sintesi che abbiamo ma questo condato per i dati dirlo poi all'assessore direttamente perché abbiamo rilevato in un in un'area privata di un balneare di un chiosco sul lungomare sul lungomare alla fine del lungomare una perdita d'acqua che c'è che c'è dal giorno post precisamente chiosco il lido al fiato quello di luna rossa del corpo di schiave l'alante c'è una perdita e delle bombole delle bombole attaccate a cuore delle bombole di gas attaccate a cuore al ridosso di paolo al ridosso del lato di dove c'è un precipizio forse sarebbe il caso che qualcuno andasse a verificare un attimo e chiamare per una missione di sicurezza e anche di spreco di acqua perché c'è acqua che sta andando a fiumi da là senza nessuna cognizione insomma ci sono attaccate le bombole si e sono proprio a stasera chiamata la bene arrivo procediamo con la votazione del lungo del don prego grazie avvenuti contrari immediata esecutività avvenuti io devo andare via siamo al punto numero 8 su questo punto credo che dobbiamo votare il gruppo dell'invito perché il dirigente gamba ha fatto per prima segnalazione a mezzo vecchio stamattina io lo leggo posso rappresentare le 5 ericola leggo leggo la comunicazione da parte della regione dei campi deligra l'oggetto deligra numero 57 spada premiera corte dei comi inizione regionale di controllo per la calabria avanzata adozione misure correttive in riferimento alla seguita consigliata in cui doveva essere discussa la lettera in oggetto indicata si comunica che il sottoscritto non è riuscito a progettare l'autotale elaborazione della pratica scusando la pratica creata i migliori sono c'è una nota a firma del sindaco su questo protocollo del 24 del 211 del 28 del 22 sia in progetto la delibra numero 57 del 20 portiere con sezione regionale di controllo per la calabria per la calabria del 9 12 2022 quale data per consegnare al consiglio comunale la relazione contenente le notizie utili all'adozione delle misure collettive la presente disposizione indica il piano della performance del testo natale della presente disposizione quindi dovremmo fare un consiglio comunale prima di natale per la calabria questa cosa meglio di loro no anche perché l'abbiamo parolato per un altro punto che rinviamo poi c'è il consulitato lo facciamo un momento sì 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 quindi se non ci sono interventi procediamo con la votazione dell'inviene che è il punto potente intervento punto 9 punto 9 a notte del giorno il consiglio approvazione del programma per l'affidamento di inganni e collaborazione da competire a persone fisiche 20 e 22 20 e 22 relazioni viciosi in me lo scuro questo è questa è la visione la visione la visione la visione è la visione di approvare il piano per gli inganni che è la collaborazione da organizzare per la funzione del PNR tra l'unità conore con il comune di Scalaia Puglucino per cui si prevede il profilo sempre all'esperienza di almeno di 7 anni e l'unità conore specifico per il solo comune di diamanti con il profilo che si prevede di creare che si prevede e un altro tra l'altro 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 andiamo votiamo il punto numero 9 conabilità immediata sensibilità e si approva numero 10 numero 10 occupazione a corpo transattivo parte corpi Raimondo è un accordo organizzativo una parte interessata a questo procedere del culturale in mezzo 19 settimane richieste da lei che per la questa è la particella di 290 e si è la particella di 290 propone approvare l'allegato schema di accordo transattivo con la contropatto con il Raimondo e autorizzare il segno per la sottoscrizione del predetto atto ci sono per me già sapete proprio per pietà 20 anni allora favorevoli asseguti immediata secutività favorevoli asseguti 11esimo punto la torna del giorno approvazione accordo transattivo contraparte il pendino coronario di privazione devo dire che qui la segretaria ha portato un bellissimo conto di maniazione con l'ufficio legale con le legioni legate siamo riusciti a diminuire l'accordo però provano metterci mano a bilancio questo ringrazio mi approfitto anche perché il mio assessorato di riferimento per ringraziare le persone delle gambe l'avvocato Gombieri e la segretaria che l'avrà portata avanti intendo una delle più importanti organizzazioni e che salvo probabilmente il comune dal dissesto ci sono interventi su questo progettiamo la votazione favorevole astenutica in media aspettività favorevole astenutica 12esimo punto autorizzazione all'adesione del comune interventare la merittima della centrale di committenza costituita tra i comuni di via marco e il comune relazione da giusti alle razioni allora c'è poco della razione ma allora c'è poco della razione ma c'è poco la razione ma favorevole in media aspettività una unità tredicesimo punto approvazione di esposizione qui l'articolo 9 della legge del giornale numero 25 del 7 7 per il 7 questo questo qui è l'altra delibera per cui si chiede il mio anche perché al giorno 1 c'è un annone a cui parteciperemo all'altro così la città questa è quella del piano casa questa è quella dell'adeguamento dalle nuove note del piano casa allora che sostituisce la venta regionale con la nuova che è una cosa di con lei possiamo procedere all'approvazione noi l'abbiamo ricevito con le norme nell'attore di agosto si approva una limitata immediata esecutività quando vedete che c'è uno spreco il problema è che su questa delibera noi avevamo deciso di astenerci ma non perché ovviamente è una questa è una tutta l'ordine di giorno fondamentale soprattutto per le nostre per le nostre arie però è anche una è una tutta l'ordine del giorno che andare ad approvare all'indomani di una tragedia come quella di Ischia che purtroppo dal punto che ci giriamo intorno tutti gli aumenti i volumi e i trinieff entrano in un sistema che purtroppo poi si trovano spesso non per illegittilità o legalità ma si trovano degli escomandaci per cui ci si ritrova a costruzioni o a delle aggiunte di costruzioni in aree in cui è considerato quello che diciamo il nostro territorio come sviluppato il nostro territorio poteva e può essere a rischio di condizioni e situazioni che sono al limite della sicurezza devo dire che considerato quello che è successo in passato e quello che è successo anche recentemente non diciamo dare con pochi e cero l'ok a una posizione del genere devo dire che ci risulta un po' complicato per cui senza voler fare nessun tipo di polemica noi siamo assolutamente d'accordo alla evoluzione della condizione territoriale in considerazione di quello che si è sempre detto soprattutto in questo consiglio aumenti post-net eccetera eccetera però di contro c'è questa valutazione che ci porta poi alla fine ad aver fatto questa considerazione di assenzione facciamo la votazione un attimo favorevoli astenuti immediata esecutività favorevoli astenuti quattordicesimo punto all'ordine del giorno c'è stazione ma questo non dobbiamo dire no il quattordicesimo come avevo letto nella caccia non se non si no no dobbiamo il quattro non c'è proprio la proposta dobbiamo 13 lo dobbiamo dobbiamo giusto no 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 c'è il quattro ci non c'è la ricicla allora giusto il quattro c'è sanzione c'è c'è sanzione c'è sanzione c'è sanzione c'è sanzione votiamo passiamo l'ultimo punto ho fatto un'indicazione abbiamo soltanto la comunicazione di internazioni di internazioni di internazioni di internazioni si ha già sapendo il dirigito lo rilevo però non avevano quindi legge regionale per il 31 21 lo 10 ho organizzazione di servizi va bene l'unanimità è più di di io ok ok Grazie a tutti.